Engina Kurek lotta da tempo contro un cancro alla gola e attualmente è in cura. Le condizioni del famoso attore, che ha avuto alti e bassi durante il trattamento, sono peggiorate leggermente negli ultimi giorni. Tuttavia, il suo improvviso peggioramento negli ultimi giorni è stato un grande shock per la sua famiglia e i suoi cari. Secondo le informazioni ricevute da fonti ospedaliere, Engina Kurek ha avuto un collasso improvviso nella stanza dove era stato curato e ha riferito di avere difficoltà a respirare. I medici sono intervenuti immediatamente, ma questa situazione improvvisa ha fatto crollare il cuore di tutti. Tuba Bujukustun ha avuto un esaurimento nervoso vedendo peggiorare suo marito Engina Kurek. Tagba Bujukustun non ha potuto sopportare la situazione ed ha avuto un esaurimento nervoso. I funzionari dell'ospedale hanno affermato che Tagba urlava, piangeva e provava grande ansia. Il personale dell'ospedale e i parenti di Engin hanno cercato di calmare Tagba quando ha avuto un esaurimento nervoso. Ha affermato che la moglie di Tagba Bujukustun, Inci, era sempre con lui durante il processo di trattamento. Grazie a tutti per aver guardato il mio video. Arrivederci, ci vediamo nei nuovi video. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.